Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Fare attenzione in A1 sul tratto appenninico per pioggia tra Parma e la variante di Valico. Sulla Fibili per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione mare. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Possibili disagi in entrambe le direzioni per i lavori di messa in sicurezza del tratto compreso tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Firenze in pruneta in direzione Firenze. Sulla statale 64 Porrettana è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!